Oli, com'è andata? Ciao, ciao. Com'è andata Oli? Tutto bene. Sei felice? Sì, molto felice. E' il modo migliore per festeggiare ieri sera? Eh, quello, sì, meglio che abbiamo vinto. Ti chiedo solo l'ultima cosa, come mai con la famiglia? Sei legato all'ambiente Milano e famiglia ormai anche quella? Eh sì, mi sento del primo giorno milanista e sì, avevo ricevuto un bella accoglienza e sì, mi sento molto bene. Grazie. Ciao, ciao.